Come nell'ultimo film di George Clooney, una delle tante opere trafugate dai nazisti durante l'occupazione della Polonia è tornata a Varsavia. San Filippo battezza un servo della regina Kandaki, di Johan Korad Zekacz, è stata ritrovata a New York, dove era stata venduta all'asta e gli Stati Uniti l'hanno riconsegnata allo Stato polacco.